Antonio Vitale, titolare del Vanin di Cavallino Treporti, innanzitutto un po' di storia di questo locale che è davvero storico. Sì, innanzitutto buongiorno, tengo a precisare il locale, sono titolare assieme a mio suocero, mia moglie, i miei cognati, che siamo una grande famiglia e questo ci aiuta a essere attenti a 360 gradi perché più siamo e più riusciamo a controllare. Sì, il locale storico esiste dal 1960, fondato dal papà di mio suocero, il compianto Basilio Vanin, poi successivamente Emilio Vanin, assieme ai suoi fratelli, lui adesso è rimasto l'unico e adesso noi stiamo cercando di continuare questa lunga tradizione, speriamo di farcela. Antonio, questo locale è un locale intanto particolare ma soprattutto mega, veramente gigantesco e davvero di gestione direi abbastanza delicata, cominciamo a parlare di cucina, che tipo di piatti avete e quanti piatti in menù avete? Il nostro menù spazia a 360 gradi, per quanto riguarda le pizze abbiamo una cinquantina di tipi di pizza che vanno dalla semplice margherita alle pizze con gli ingredienti più basilari fino a pizze molto più composite, ad esempio mi piace sottolineare una pizza che va fortissima, anche se non è a forma di pizza ma di sfilatino, è lo sfilatino a un buon gustaio che è nel nostro menù con gamberetti freschi, surimi di granchio, stracchino e all'uscita del pesce spada affumicato. E in quanto a pizze sfiziose, nella forma e nel gusto, il Vanin è davvero all'avanguardia. Antonio Vitale ci ha mostrato anche questa pizza nel bicchiere. E in quanto a pizze sfiziose, nella forma e nel gusto, il Vanin è davvero all'avanguardia. Nonostante i 600 posti a sedere, tra sale interna e zona estiva, questo locale mantiene la capacità di soddisfare e di stupire ogni singolo cliente, grazie ad una perfetta sinergia tra i gestori e lo staff, tra la cucina e la pizzeria. Io ho la fortuna di avere la maggior parte del mio staff che collabora con noi da diversi anni, ad esempio Giovanni Landi, il nostro pizzaiolo, collabora con noi da 18 anni. Accanto alla vasta scelta di pizze, curate dalla supervisione del maestro Giovanni Landi, una vasta scelta di primi, di secondi di carne e di pesce, di fast food, dolci gelati e piatti unici. Aperto da maggio a metà ottobre, sette giorni su sette, con orario non stop. Si parte alle 7.30 del mattino. Curiamo anche tantissimo quello che sono le colazioni, perché un po' italiani, perché noi abbiamo parecchi clienti del nord Europa dove sono abituati a fare delle ricche colazioni. Cerchiamo di spaziare dal classico cappuccino e brioche all'italiana fino alle crepe, i waffle, i muffin, i nutzel, parecchi piatti, anche qualcosa di salato su richiesta, tipo prosciutto, uova strapazzate. Insomma, un servizio a 360 gradi, che dall'alba fino a notte fonda, soddisfa i palati più esigenti. Cucina non stop dalle 12 alle 23 e pizzeria sempre aperta dalle 12 alla 1 di notte. E non è tutto! Abbiamo inserito da qualche anno la possibilità di parecchi piatti scontati rispetto al prezzo del menù per dare la possibilità alle persone di poterli portare a casa. Siamo organizzati con dei appositi contenitori. E i piatti a portare via sono dal panino mega con l'hamburger, per cui un po' cucina internazionale, a qualsiasi altra cosa, che può essere spaghetti e frutti di mare, il fish and chips, i calamari fritti, le lasagne, la pasta ragù, le patate fritte, il po' l'arrosto. Qualsiasi cosa uno vuole può portarlo via dal nostro menù, in più altri prodotti con un prezzo ulteriormente ribassato. Ma come si fa a fare tanto e tutto bene? Investiamo tantissimo sulla tecnologia, sulle innovazioni per quanto riguarda la cucina, la sala, i macchinari e quant'altro. Io ho dei forni di ultima tecnologia per quanto riguarda la cucina, tutto computerizzato con touchscreen e quant'altro. Abbiamo un sistema di chiamacamerieri che di solito in giro uno può sentire con la campanella, col microfono, con i lampeggianti. Noi abbiamo proprio un cerca persona, ogni cameriere ha il suo e noi lo chiamiamo in silenzio, lui vibra e si reca in cucina o in bar, dove che serve. Grazie.